A una settimana esatta dal primo voto per l'elezione del nuovo Capo dello Stato cominciano a definirsi le posizioni dei grandi elettori molisani. Complessivamente la delegazione regionale è composta da nove elementi, quattro deputati Antonio Federicoro, Salba Testamento, Giuseppina Occhionero e Anna Elsa Tartaglione, i senatori Lorenzo Ortis e Luigi Di Marzio e i grandi elettori Donato Toma, Salvatore Micone e Andrea Greco. Ultima novità del quadro che si va delineando è quella della indicazione proveniente dal gruppo misto di Camera e Senato al quale afferiscono gli ex Cinque Stelle, Testamento e Ortis. Da entrambi in linea con le indicazioni del resto del gruppo, la scelta è cascata sull'ex vicepresidente della Corte Costituzionale ed ex magistrato Paolo Maddalena. Figura di garanzia e di alto profilo morale tecnico hanno ribadito sia Testamento che Ortis. Quest'ultimo in rotta di collisione con gli ex compagni di movimento, a cui rimprovera la subalternità al Partito Democratico e l'assenza di una propria proposta. Sulle altre esplicite manifestazioni di voto sono da annoverare quelle del presidente Toma e dell'onorevole Tartaglione, entrambi favorevoli all'elezione di Silvio Berlusconi. Sul fronte del centrodestra invece, più sfumata la posizione di Salvatore Micone, che ha già fatto sapere di affidare la propria scelta alle indicazioni che perverranno dal centrodestra. Al momento quindi Berlusconi, ma non è detto che la scelta rimanga questa. Restano ancora da capire quali saranno le posizioni del resto dei grandi elettori molisani. Da Antonio Federico nessuna indicazione, ma una sostanziale adesione alla linea che prevarrà tra i 5 stelle, divisi tra Mario Draghi e un Mattarella bis. Stessa cosa per il pentastellato Andrea Greco. Nessuna indicazione anche da Giuseppina Occhionero, che verosimilmente confluirà sul nome di Mario Draghi, candidato di Matteo Renzi e di Italia Viva. Resta aperta la posizione del senatore Di Marzio, anche lui nel gruppo misto, ma non tra coloro che hanno firmato in favore di Paolo Maddalena, un puzzle, quello del Quirinale, destinato in ogni caso a comporsi nei prossimi giorni.